Tutti ricordiamo come comincia il viaggio di Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita, dove la parola chiave è nostra. Dante ci dice fin dall'inizio che sta parlando di noi, dette fabula narratur. La storia ci appartiene, ci riguarda. Ci riguarda in quanto esseri umani, perché la Divina Commedia non è solo un viaggio ultraterreno, è anche un viaggio dentro l'animo umano, sino ai confini di ciò che è in noi. E la storia ci riguarda in quanto italiani, perché Dante è l'inventore dell'Italia. Ci sono nazioni nate dalla politica, dalla diplomazia, dalla guerra. La Francia è nata da una guerra. Una donna forte, Giovanna d'Arco, aiuta un re fragile a cacciare gli inglesi invasori e nasce la Francia. La Spagna è nata da un matrimonio dinastico. La regina di Castiglia sposa il re d'Aragona e nasce la Spagna. L'Inghilterra è nata da un divorzio. Enrico VIII si libera contemporaneamente della moglie e del Papa e nasce in Inghilterra. L'Italia no, l'Italia è uno Stato giovane. Ma quando diventa uno Stato, in realtà l'Italia esisteva già da secoli, perché era nata dalla cultura e dalla bellezza. L'Italia è nata dagli affreschi di Giotto e dai versi del suo amico, Dante Alighieri. Dante è un po' il nostro papà. Non a caso è l'unico scrittore per nome, anzi per soprannome. Lui si chiamava Durante degli Alighieri, come se chiamassimo Leopardi, Giacomino o Manzoni, Sandro. Dante è il primo a parlare d'Italia e lo fa sin dal primo canto dell'Inferno, mettendo in scena Virgilio, il quale si presenta dicendo che i suoi parenti, i suoi genitori, erano lombardi, mantoani per patria ambedui. Cioè 700 anni fa esisteva già la Lombardia. E Virgilio fa una profezia, dice che avverrà un veltro, un cane da caccia, a mettere in fuga la lupa, simbolo della cupidigia, dell'avarizia, che è la rovina dell'Italia. E dice Virgilio, di quell'umile Italia fia salute per cui morì la vergine Cammilla, Eurialo e turno in iso di Ferute. Il riferimento è alla guerra cantata da Virgilio nell'Eneide tra italici e troiani che poi insieme fonderanno Roma. La grande avventura della città che diventerà Caput Mundi sta per cominciare. Dante ci ha dato una lingua che è viva ancora adesso. Tante espressioni coniate da Dante noi le usiamo ancora oggi. Stare fresco, stare solo soletto, cosa fatta capo ha, non mi tange, semo a buon punto, avere un piede nella fossa, degno di nota, senza infami e senza lode, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Antelucano, parola stupenda. Dante è il primo che la usa. Dieta, parola orribile. È una parola usata da Dante, volsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Qualcuno ha notato che non esiste modo più letterario per dire fatti i fatti tuoi. Fare tremare le vene i polsi, lasciate ogni speranza voi che entrate a rivedere le stelle. Ma Dante ci ha dato molto più di una lingua, ci ha dato un'idea di noi stessi, ci ha insegnato a pensare l'Italia. Per Dante l'Italia aveva conquistato il mondo due volte, con l'impero romano e con la fede cristiana. E per Dante l'Italia aveva una missione, conciliare la classicità e la cristianità, la Roma dei ceseri e la Roma dei papi. E da questo incontro nasce l'umanesimo, che ancora oggi è il motivo per cui l'Italia è importante del mondo. A Firenze, accanto al Battistero, dove Dante stesso fu battezzato e dove salvò una vita, salvò un giovinetto che stava affogando in un pozzo. Ebbene, lì accanto c'è il campanile di Giotto, che tutti conoscete. È un'opera di architettura, è un campanile, ma è anche un'opera di pittura, perché è dipinto, ed è un'opera di scultura perché è scolpito. E agli uffizi c'è una Madonna di Giotto assisa, seduta, su un trono che ha le stesse decorazioni del campanile, segno che si facevano così anche i mobili. L'Italia è sempre stata il software del mondo, il luogo in cui il mondo veniva pensato e anche la maniera di raffigurarlo, il posto dove nascevano gli stili, gli affreschi di Giotto, il gotico giottesco, il rinascimento, il manierismo, il barocco, il rococò, il neoclassicismo, il futurismo, la metafisica. I grandi italiani hanno trovato in Dante l'idea d'Italia. Giotto è il primo a ritrarre il suo volto a Bargello, a Firenze. Raffaello ritrae Dante due volte qui a Roma, nella stessa stanza in Vaticano, una volta tra i teologi e una volta tra i poeti, accanto a Omero. E prima di morire, a 37 anni, il venerdì santo del 1520, Raffaello scrive una lettera al Papa, Leone X, che era Giovanni de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, implorandolo di salvare le vestigie dell'antica Roma, i luoghi meravigliosi come quello che ci ospita stasera. E scrive Raffaello, Santo Padre salvi quel poco che resta dell'antica gloria e grandezza italiana. Lo scrive romana Raffaello, scrive italiana. Michelangelo aveva un sogno, scolpire la tomba di Dante e Legheri, che era ed è sepolto Ravenna. Allora Michelangelo incoraggiò i fiorentini ad andarsi a riprendere Dante, ma i ravennati lo sapevano e nascosero il corpo del poeta. I fiorentini trovarono solo una cassa vuota con tre falangi di un dito, solo che i ravennati avevano nascosto Dante talmente bene che poi non lo trovavano più. Ed è solo nel 1865, per i 600 anni della nascita, che restaurando la tomba alla chiesa dei Francescani e il quartiere attorno, un muratore trovò una cassetta con la scritta Dantis ossa, fu ricomposto sullo scheletro e si vide che combaciava con le tre falangi mancanti, erano veramente le ossa di Dante. Ugo Foscolo va a Firenze, a Santa Croce, si commuove davanti alla tomba di Vittorio Alfieri e scrive nei sepolcri che l'ossa fremono amor di patria. Giacomo Leopardi compone un'ode al monumento a Dante che si preparava in Firenze. Alessandro Manzoni va a sciacquare i panni in armo. Ippolito Nievo, prima di morire a 30 anni, tornando dalla vittoriosa spedizione dei mille in Sicilia, scrive le confessioni di un italiano che cominciano così, io nacqui veneziano e morrò per grazia di Dio italiano. Ma il primo a trovare in Dante l'idea dell'Italia è Petrarca. Petrarca però non amava Dante, si vantava di non possedere neanche una copia della Divina Commedia e di non averla mai letta. E c'è una lettera bellissima in cui Petrarca spiega Boccaccio, che invece adorava Dante, fu Boccaccio a definire la Commedia Divina, fu Boccaccio a inaugurare la tradizione delle letture di Dante in pubblico, arrivata sino ai giorni nostri grazie a Giorgio Albertazzi, Vittorio Gasman, Vittorio Sermonti, Carmelo Bene, Roberto Benigni. Bene, in questa lettera Petrarca spiega Boccaccio perché non ama Dante. Dice io non l'ho mai letto perché se l'avessi letto avrei tentato di imitarlo e Dante è troppo grande per essere imitato ma, aggiunge Petrarca, se fosse vissuto nel nostro tempo pochi avrebbe avuto più amici di me. Poi se volete la mia impressione io credo che Petrarca avesse non soltanto letto ma anche annotato Dante e mandato a memoria. Tant'è che quando scoppia la guerra tra Venezia e Genova Petrarca scrive una lettera ai due d'oggi implorandoli di non farsi la guerra perché Venezia e Genova erano i due occhi d'Italia. Venezia uno guardava a Oriente verso l'Adriatico, l'Egeo, l'altro Genova guardava verso Occidente, verso il Tirreno e l'Italia aveva bisogno di entrambi gli occhi. Quella lettera fu ignorata e la guerra si fece lo stesso eppure un seme era stato gettato. L'idea dell'Italia era già nata grazie a due grandi poeti Dante e Petrarca. Poi la Divina Commedia è anche un viaggio in Italia. Dante descrive l'Italia. C'è un dannato romagnolo che gli chiede notizie della sua terra. Dante conosceva bene la Romagna dove andò dopo l'esilio e Dante gli fa una disamina città per città. Forlì e Faenza, Cesena, Rimini, Ravenna, Cervia, Imola e questa disamina comincia così. Ravenna sta come è stata e molt'anni. A Ravenna non cambia mai niente. Ma questo è un formidabile incipit di un articolo, di un reportage. Mi fa venire in mente Giorgio Bocca da Vigevano. Fare soldi per fare soldi per fare soldi. Se esistono altre prospettive chiedo scusa, non le ho viste. Cioè Dante è stato molto di più, è stato un grande poeta. Anche se io non amo l'espressione sommo poeta, mi sembra un po' distanziante. Dante è stato il più grande poeta che l'umanità abbia mai avuto. È stato anche un teologo, come aveva intuito Raffaello. È stato un filosofo, un astronomo. Papa Francesco ha detto che Dante è stato anche un profeta, perché ha anche visto cose che sono accadute. Ma è stato anche un grande reporter. Ha descritto Roma, che conosceva, perché era stato qua durante il giubileo del 1300. E lui descrive il ponte di Castel Sant'Angelo, che all'epoca era l'unico della città, e racconta che i romani avevano inventato il doppio senso di circolazione, con una staccionata in mezzo al ponte. Ed allora è che il simbolo di questa meravigliosa città, che ormai da oltre vent'anni è anche la mia, non è più la lupa, ma è la transenna. Ma Dante descrive, è talmente bravo, che descrive anche luoghi che non ha mai visto, come la Sicilia, che non ha mai conosciuto, ma che ama perché la considera la terra della poesia, la culla della scuola siciliana. Allora Dante la definisce la bella Trinacria e descrive l'Etna, lo chiama Mongibello, con l'antico nome arabo con cui ancora adesso i siciliani chiamano la loro montagna. Poi Dante evoca Scilla Cariddi, quindi lo stretto di Messina. Dante fissa proprio i confini d'Italia. Parlando di Farinate degli Uberti, che è rinchiuso dentro un sepolcro con gli altri eretici, per dare l'idea di come è fatto il sepolcretto infernale, Dante lo paragona a due sepolcretti veri, uno che sta a Darl, in Provenza, quindi sui confini occidentali, e l'altro che sta a Pola, quindi sui confini orientali, presso il Golfo del Quarnaro, che Italia chiude e i suoi termini bagna. Questo verso è stato citato da generazioni di redentisti, italiani di lingua e di cuore, ma sudditi austriaci, che si battevano e finivano in galera per innalzare delle statue a Dante, per aprire scuole italiane da dedicare a Dante. E quando scoppiò la Grande Guerra, duemila di loro disertarono dall'esercito austriaco, andando a combattere accanto gli italiani e andando incontro a morte quasi certa. Se anche sopravvivevano gli assalti, non venivano fatti i prigionieri, venivano impiccati come Cesare Battisti, e di questi duemila, mille avevano studiato al liceo Dante di Trieste. Tra loro c'era Nazario Sauro, catturato dagli austriaci, disse di chiamarsi Nazario Sambo, ognuno aveva un nome di guerra, ma venne riconosciuto e fu messo a confronto con la madre. La mamma nega di conoscere il figlio, pur di salvargli la vita, ma è tutto inutile, Nazario Sauro sale sulla forca e prima di essere impiccato scrive una lettera ai cinque figli, dicendo comunque finisca la guerra, ricordatevi che sarete sempre e comunque italiani. E quando dopo la seconda guerra mondiale 350.000 esuli, giuliani, istriani e dalmati furono costretti a lasciare la loro terra, portarono con sé, accanto alle loro povere cose, le spoglie di Nazario Sauro, che ora riposa a Venezia. Dante descrive l'arsenale di Venezia, che era all'epoca la più grande fabbrica d'Europa. E ancora nel 1848, quando scoppia la grande rivolta contro gli austriaci, l'arsenale era una fabbrica importante, infatti la rivolta scoppia lì. L'arsenale di Venezia era comandato da un aristocratico croato, il conte Marinovic, uomo spietato, cattivo. Tutte le volte che gli operai gli chiedevano un aumento dei loro magri salari, lui rispondeva forse la prossima settimana. Scoppia la rivolta, gli operai fanno prigioniero Marinovic, lui cerca di fuggire, gli operai lo pugliano a una morte, lui chiede un prete, indovinate cosa gli rispondono gli operai. Forse la prossima settimana, a quel punto la guarnigione ha l'ordine di sparare. Venezia era tenuta da una guarnigione composta per metà da soldati croati e per metà da veneti di terraferma, che non amavano i veneziani, i gran signori che li avevano tenuti sotto il tallone per secoli. Ma lì avviene il miracolo. La guarnigione rifiuta di sparare, veneti rifiutano di sparare su altri veneti, italiani rifiutano di sparare su altri italiani. Rinasce la Repubblica Serenissima ma Daniele Manin non sceglie il glorioso leone di San Marco come vessillo, sceglie il tricolore italiano con un leone in alto a sinistra. Segno che le due bandiere possono stare assieme e che è il legame che ognuno di noi ha con la sua piccola patria, con il dialetto, con il territorio, non è incompatibile con il legame che ci unisce alla patria comune, l'Italia. Diceva Carlo Azzeglio Ciampi, Azzeglio con la G, che quando lui diceva io mi sento profondamente livornese, toscano, italiano ed europeo. Poi Dante descrive il lago di Garda, Suso, in Italia bella, giace un laco. È la più lunga descrizione geografica della Divina Commedia. Dante fa proprio vedere le Dolomiti in alto che separano il mondo tedesco dal mondo latino e poi il lago, le valli veronesi e bresciane, la fortezza di Pestiera, il Mincio, Mantua, la città di Virgilio. Mantua è anche la città dove viene portato a morire Ciro Menotti, patriota di Modena, ma per evitare che i modinesi lo liberassero lo portano nella fortezza austriere di Mantua. Anche lui scrive una lettera, prima di salire sulla forca, alla moglie e le scrive non piangere per me, tu rivedrai il mio volto in quello dei nostri cinque figli. Anche lui aveva cinque figli come Nazario Sauro. E quando i ragazzi avranno l'età per capirlo e chiederanno chi era il loro padre, tu dirai che era uno che amò sempre il suo simile, il suo prossimo. Quella lettera rimase per 17 anni nelle prigioni austriache. Solo quando ci fu l'insurrezione del 48, i patrioti la trovarono e la portarono alla moglie che poteva leggere le ultime parole del suo marito. E rileggendo la lettera di Ciro Menotti, nome da sussidiare che forse i nostri ragazzi non ha mai sedito nominare, io ho pensato che in fondo noi italiani abbiamo questa fortuna. I nostri eroi non sono condottieri che hanno sparso il sangue altrui o comandanti, generali che hanno assoggettato altri popoli. I nostri eroi sono poeti come Dante o sono patrioti che hanno saputo morire bene. Le lettere dei condannati a morte della resistenza assomigliano quelle degli eredentisti o dei patrioti del risorgimento. Non una parola di odio per i carnefici, solo parole d'amore per la libertà e per l'umanità. Poi Dante descrive la terra che conosce meglio, la Toscana. Dice che l'Arno nasce in Casentino tra i porci, poi evita a rezzo botoli ringhiosi, gli aretini li definisce, poi passa tra lupi, i fiorentini, e infine tra volpi i pisani. E poi attacca i lucchesi, dice che sono tutti barattieri, tutti corrotti, e vengono immersi nella pece e insultati dai diavoli che gridano qui non ha loco il santo volto. Il santo volto era ed è un crocefisso ligno a cui i lucchesi sono molto devoti. Qui si nuota altrimenti che nel serchio. Ecco la parola serchio mi fa venire in mente un altro grande poeta, Giuseppe Ungaretti, e la sua poesia I fiumi, in cui Ungaretti evoca i fiumi della sua storia. Il serchio sulle cui sponde sono cresciuti i suoi antenati, il nilo sulle cui rive lui è nato, la senna dove si riconosce come poeta e l'isonzo in cui si riconosce come italiano. Ungaretti amava l'Italia ma non c'era mai stato, era nato da Alessandria d'Egitto poi era andato a Parigi ed è solo con l'uniforme addosso che si sente come nella culla di suo padre. Quando scoppia la grande guerra Ungaretti parte volontario, fece il corso ufficiale ma venne giudicato inadatto al comando e fece tutta la guerra da soldato semplice, lui che aveva già 30 anni ed era lavorato, accanto ai fanti diciottenni che lo adoravano, lo chiamavano signore e facevano gara a portargli lo zaino e il fucile lungo le marci. Un giorno alla fine di una marcia faticosa Ungaretti si lasciò cadere a terra per riposare. Passò di lì un sottotenente che si chiamava Ettore Serra e Ungaretti non lo salutò. Per molto o meno si poteva essere fucilati un fante, Alessandro Ruffini, venne fatto fucilare da un generale perché l'aveva salutato senza togliersi la pipa di bocca. Qualcuno dice un sigaro. Dopo la guerra quel generale fece una brutta fine, fu gettato da un treno in corsa da mani rimaste misteriose. Invece il sottotenente Serra non solo non fece fucilare Ungaretti ma ne fu incuriosito e gli chiese tu chi sei? E Ungaretti rispose fiero, io sono un poeta. L'altro si mise a ridere, diceva se ci manca solo il poeta. Che poesia è scritto? Ungaretti tira fuori un foglio dalla tasca, glielo passa e il sottotenente legge mi illumino d'immenso. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Verso quasi copiato da Dante. Quando Dante mette in scena Caronte ed ecco verso noi venire per nave un vecchio bianco per antico a pelo gridando guai a voi anime brave non isperate mai vederlo cielo. Il vegno per menarvi all'altra riva nelle tenebre eterna in caldo in gelo. Ebbene per dare l'idea della massa di anime che attendono di essere traghettate da Caronte Dante le paragona alle foglie che si staccano d'autunno dagli alberi. Bene il sottotenente legge quelle poesie e dice ma tu sei veramente un poeta? Hai scritto altri versi? E Ungaretti tira fuori delle altre poesie scritte a matita qualcuna sulle scatole di munizioni. Li affida a quest'uomo che non ha mai visto il quale si fa dare un'aligenza, torna a casa, li fa pubblicare e grazie a questa fortunata serie di coincidenze oggi noi possiamo leggere i versi di Giuseppe Ungaretti ispirati a quelli di Dante Alighieri. Poi Dante maledice anche i pisani. Perché ce l'ha con i pisani? Perché hanno fatto morire il conto Ugolino. E il conto Ugolino è uno dei personaggi in cui Dante si specchia. Noi della vita di Dante non sappiamo quasi niente. Non sappiamo neanche il giorno in cui è nato. sappiamo che era dei gemelli perché lui ci dice che era nato tra... perché ce lo dice lui. E quindi immaginiamo che sia nato tra il 21 maggio e il 21 giugno. La sua vera autobiografia è l'inferno. Lì c'è tutto. Beatrice, la donna amata, Virgilio, il poeta prediletto, Brunetto Latini, il maestro. E ci sono i personaggi in cui Dante riconosce se stesso. Il conto Ugolino vede morire di fame sui quattro figliuoli, in realtà due figli e due nipoti. Anche Dante aveva quattro figli, Pietro, Jacopo, Giovanni e Antonia, che si farà suore col nome di Beatrice. E anche Dante vede i suoi figli dire la fame e le umiliazioni durante l'esilio. E quindi si scaglia contro i pisani che hanno fatto morire di fame il conto Ugolino e i quattro figliuoli e dice, hai Pisa, vituperio delle genti, del bel paese là dove si suona, poiché i vicini a te punir son lenti, muoversi la capraia e la gorgona e facciansiepe ad Arno in sulla foce, sicché li annieghi in te ogni persona. Dante auspica che si muovano le isole dell'arcipelago toscano, la capraia e la gorgona e facciano da diga la foce dell'Arno finché il fiume straripi e facciano negare tutti i pisani. Ma nello stesso canto maledice anche i genovesi con cui i pisani avevano fatto la guerra. Poi ce l'ha con i pistogliesi, mette in scena Vanni Fucci, ladro sacrilego che aveva rubato il tesoro del Duomo di Pistoia e gli fa dire sono Vanni Fucci, bestia e Pistoia mi fu degna tana. E poi ce l'ha, c'è anche con Roma, la definisce la città dove Cristo tutto di si merca, dove si fa mercato delle cose religiose tutto il giorno. E ce l'ha soprattutto con Firenze. Dice che a Firenze solo i mediocri fanno politica, i capi e i governi cambiano di continuo e una legge decisa a ottobre non arriva a metà novembre. E qua pare che stiamo parlando dei DPCM al tempo della pandemia. Ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province ma a bordello, non signora di territori ma prostituta in vendita al miglior offerente. Siamo nel sesto canto del Purgatorio. Virgilio ha appena incontrato un collega e concittadino, Sordello da Goito. Sordello era un poeta e Goito è vicino a Mantua. E allora Virgilio e Sordello si abbracciano e Dante dice vedi qua in Purgatorio si abbracciano come facciamo a volte anche noi italiani quando ci ritroviamo all'estero. Però in vita, scrive Dante, gli italiani non riescono a stare senza guerra. Anche quelli che vivono nella stessa città, dentro lo stesso fossato, all'interno della stessa cerchia di mura. Perché? Perché siamo troppo divisi. Guelfi e Ghibellini, Bianchi e Neri, Montecchi e Capuleti. Dante è anche il primo a parlare di Montecchi e Capuleti, secoli prima di Giulietta e Romeo di Shakespeare. E purtroppo non siamo molto cambiati. Quest'invettiva, ai Servitalia, è ancora attuale. Anche perché dentro c'è, oltre all'inviniazione civile, c'è anche la speranza di un riscatto, di una rinascita. Non a caso questa invettiva era piaciuta molto ai Patrioti del Risorgimento, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi. Ha scritto Carducci che quando i Patrioti ascoltavano queste parole di Dante veniva loro voglia di prendere le armi contro gli Austriaci, anzi i Patrioti, scrive Carducci, cercavano la carabina. Dicevamo prima dei diavoli che prendevano in giro i lucchesi, i barattieri, i corrotti. Ma i diavoli di Dante non sono veramente cattivi. Quando Dante inventa i nomi dei diavoli sembra Maradona quando palleggia scalzo con le arance e di una bravura ai limiti del virtuosismo. Il capo si chiama Malacoda e compone una squadra che deve scortare Dante e Virgilio fuori dalla Malabolgia. In realtà è una trappola, dovranno invece portarli su una cattiva strada per farli perdere nell'inferno. Allora Malacoda dice, tratti avanti Alichino e Calcabrina, cominciò egli a dire, e tu Cagnazzo e Barbariccia Guidi la Decina. Libicocco Vignoltre, Draghignazzo, Ciriato Sannuto e Graffiacane e Farfarello e Rubicante Pazzo. Ognuno di questi nomi esplode come una granata. Sono nomi da commedia dell'arte, Alichino somiglia un po' ad Arlecchino, Libicocco l'incrocio tra Libeccio e Scirocco, venti che portano tempesta. Ma i diavoli di Dante non sono davvero malvagi. Vedete, il diavolo può essere raffigurato in molti modi. Può essere affascinante, seducente come Mephistofele. Può essere spaventoso, terrificante come il diavolo della saga cinematografica dell'esorcista. Oppure può essere buffo, grottesco, come Belfagore Arcidiavolo, protagonista della novella di Machiavelli. Machiavelli è un altro che non amava Dante. Lo rimproverava di aver usato uno stile porco, di aver scritto troppe parolacce. Ma Dante voleva usare tutti gli stili, l'alto, il basso, il lirico, il comico, il sublime e il grottesco, perché voleva restituire tutte le sfaccettature dell'animo umano. Ebbene, Belfagore Arcidiavolo sale sulla terra per verificare se è vero quello che ha sentito dire, che le mogli sono la rovina dei mariti. Si innamora, si sposa con monna onesta, ma poi trova insopportabili i suoi capricci e preferisce tornare nell'inferno con i demoni, i suoi aiutanti. Ecco, i diavoli di Dante sono come Belfagore, sono grotteschi, non sono davvero malvagi. Il male è dentro di noi. L'inferno sono gli altri, diceva Sartre. Ma l'inferno può anche essere dentro l'animo umano. Omo homini lupus, diceva Plauto. L'uomo è un lupo per l'uomo. Dante si pone la questione del male, ma la risolve più come Terenzio. Omo sum, nilumanum a me alienum puto. Sono un uomo. Nulla che sia umano lo ritengo estraneo me. Dante incontra i malvagi nell'inferno. Incontra Filippo Argenti. Si chiamava in realtà Filippo Adimari. Lo chiamavano Filippo Argenti perché aveva ferrato il cavallo d'argento e galoppava a gambe larghe per le vie di Firenze, ferendo con gli speroni i passanti che non erano lesti a farsi da parte. Ebbene, quando incontra Filippo Argenti nella palude Stigia, l'altro gli dice, abbi pietà, vedi che sono un che piango. Ma Dante gli risponde, compiangere con lutto, spirito maladetto, ti rimani. Io ti conosco. Ancorsi è lordo tutto. Anche se sei sporco di fango, io ti conosco e tu stai bene dove stai. Ma Dante tratta ancora peggio Bocca degli Abati, il traditore di Montaperti. Montaperti per i fiorentini era come per noi il caporetto, la disfatta. E Bocca degli Abati era il traditore venduto al nemico che, mentre i fiorentini vanno all'assalto, mozza la mano del portastendardo di Firenze, il gonfalone della città cade nella polvere, i senesi e i ghibellini contrattaccano e vincono la battaglia. Diecimila morti in un giorno. L'Arbia, il torrente, colorato in rosso. E al tramonto il comandante senese, Provenzano Salvani, ordina ai suoi di smettere di uccidere i prigionieri. Dice, lasciamone qualcuno vivo così e magari poi chiederemo un riscatto. E i suoi uomini dicono, ma come anche i fiorentini? No, i fiorentini li dovete ammazzare tutti. Provenzano Salvani, secondo la leggenda, aveva un diavoletto in bottiglia che gli prevedeva il futuro. E gli aveva detto che la sua testa sarebbe stata la più alta sul campo di battaglia. Mi sembrò che la vittoria di Montaperti realitasse la profezia, ma nove anni dopo i fiorentini si presero la rivincita, sconfissero i senesi con le valdelsa, uccisero Provenzano Salvani, li tagliarono la testa e la essarono su una picca. E allora sì, la sua testa, quella più alta sul campo di battaglia. Il fatto sta che quando Dante trova Bocca degli Abati in fondo all'inferno, nell'antenora tra i traditori della patria, da antenore il troiano che aveva aiutato i greci, questo poveretto è confitto nel ghiaccio fino a qua e Dante li strappa i capelli per costringerlo a confessare il suo nome e il suo tradimento. Ma quando invece trova a fare in nata degli uberti il vincitore di Montaperti, il capo dei ghibellini fu riusciti da Firenze, Dante gli riconosce la dignità. Sono versi straordinari. Virgilio gli dice, volgiti, che fai? Vedi là, farinata, che sei dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. Io aveva già il mio viso nel suo fitto e lei sergeva col petto e con la fronte, come avesse l'inferno a grandi spinto. Quest'uomo è talmente grande che sembra disprezzare l'inferno. Il petto e la fronte sono le parti del corpo che meglio esprimono la dignità e Dante la riconosce al suo nemico, perché Farinata era stato l'unico a difendere a viso aperto Firenze dagli altri capi ghibellini che la volevano radere al suolo. Poi Dante manda all'inferno i tiranni del suo tempo, affogati nel sangue che hanno sparso. Manda all'inferno quattro papi. Celestino V, che fece per viltà del gran rifiuto, che si dimise, aprendo la via a Bonifacio VIII, il grande nemico di Dante. E altri due papi sono all'inferno tra i simoniaci, tra quelli che vendevano per denaro le cariche religiose. E due altri papi sono in purgatorio, tra cui uno Martino IV, tra i golosi, perché era molto ghiotto di vernaccia e di anguille. Ma perché Dante manda i papi all'inferno al purgatorio? Perché per Dante il papa non doveva essere un sovrano assoluto, doveva essere un'autorità spirituale, proprio quello che il papa ora è diventato. Per questo papa Francesco ha definito Dante un profeta. Talmente profeta che Dante ha antivisto anche le degenerazioni della finanza. Manda all'inferno gli usurai e li mette accanto ai bestemmiatori, tra coloro che fanno violenza a Dio. E spiega anche perché dice che la natura, il grano, l'uva, è figlia di Dio. L'arte dell'uomo imita la natura e quindi può dirsi nipote di Dio. L'uomo trae il suo pane dalla natura, i contadini, i vignaioli o dall'arte, gli artigiani, gli artisti. Ma coloro che fanno soldi, con altri soldi sulla pelle della povera gente, vanno all'inferno. Oggi noi diciamo che l'Italia va ricostruita dopo la pandemia, come fecero le nostre madri e i nostri padri dopo la seconda guerra mondiale. Ed è vero. Ma l'Italia all'epoca fu ricostruita con il lavoro. Lavoro spesso durissimo. Cantieri, accellerie in riva al mare, reparti verniciatura, ciminiere in città. Però lavoro. Adesso i soldi si fanno con altri soldi. E il lavoro è sempre diventato un problema. Se una multinazionale licenzia, le sue quotazioni in borsa salgono. I suezionisti si arricchiscono e sul manager ricevono dei bonus milionari. Ecco, questa degenerazione della finanza, in qualche modo, Dante li aveva intuiti. Tra i personaggi in cui Dante si specchia, c'è ovviamente Ulisse. Perché voi sapete che Omero non ci dice che fine ha fatto Ulisse. Neanche Virgilio ce lo dice. E ogni generazione di poeti ha cercato di immaginare che fine abbia fatto Ulisse. Dante immagina che Ulisse non sia tornato a Itaca, non sia tornato a casa. Né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, nel debito amor lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro me l'ardore, più ebbe di venir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto. Né la dolcezza del figlio, né la compassione per il padre anziano, né l'amore dovuto a una moglie che l'aveva atteso tanto, possono vincere dentro Ulisse l'ardore di diventare esperto del mondo, conoscitore dell'animo umano. E in fondo tutti quanti noi siamo il mondo per questo. Non solo Ulisse, Dante, Shakespeare, Leopardi, ma tutti noi siamo il mondo per penetrare il mistero più profondo, quello dell'animo umano. E così Ulisse riprende il mare, oltre le colonne d'Ercole, oltre i confini del mondo conosciuto. C'è una bellissima canzone di Lucio Dalla, intitolata non a caso Itaca, in cui Ulisse è raccontato con gli occhi di un suo marinaio, che gli dice, capitano che hai negli occhi il tuo nobile destino, pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino? Se tu muori, è un re che muore, la tua casa avrà un'erede. Quando io non torno a casa, entran dentro fame e sete. Il marinaio ogni notte ha più paura, ma alla fine dice, anche la paura in fondo mi dà sempre un gusto strano. Se ci fosse ancora mondo, sono pronto, dove andiamo? Ecco, e lì Ulisse arringa i suoi uomini. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza. E loro esplodono in un'ovazione, lo seguirebbero dappertutto. Ulisse fatica a trattenerli, e dei remi fecero ali al folle volo. Ecco, l'Ulisse dantesco è il primo uomo moderno, perché la modernità non nasce dalla saggezza, nasce dall'ignoranza, o meglio dalla consapevolezza di essere ignoranti. L'uomo, come già Socrate, sa di non sapere e quindi si mette in viaggio, oltre le colonne d'Ercole, oltre i confini del mondo conosciuto, oltre l'orizzonte, di retro al sol, nel mondo senza gente. Poi l'Ulisse di Dante fa una brutta fine. Dopo cinque mesi di navigazione arriva davanti alla montagna del Burgatorio, ma poi la tempesta, il naufragio, infinché il mar fu sovra noi richiuso. Perché per Dante, senza la fede, non c'è verità, non c'è salvezza. Anche se nel paradiso andrà oltre, metterà in paradiso l'imperatore Traiano, un pagano, e scriverà, se uno è nato sulle rive dell'Indo, che non ha mai sentito parlare di Gesù, che colpa ha se non crede. E arriverà a ipotizzare che il giorno del giudizio universale ci saranno molti etiopi, molti infedeli, più vicini a Cristo, di tanti cristiani che lo sono solo nel nome. Tanto sta che Ulisse fa una brutta fine, eppure anche lì un seme era stato gettato. Poco più di un secolo e mezzo dopo la morte di Dante, un altro grande italiano prenderà il mare sulla stessa rotta dell'Ulisse dantesco. Lasciandosi a destra Siviglia, che Dante chiama Sibilia, a sinistra Feuta, che Dante chiama Setta, oltre lo stretto di Gibilterra, oltre le colonne d'Ercole, oltre l'orizzonte, andando sempre verso l'Occidente, nel mare oceano, ogni sera il sole al tramonto gli ferirà gli occhi. Fino a quando Cristoforo Colombo non arriverà di fronte a questo continente misterioso senza capire di aver scoperto una nuova terra a cui un altro grande italiano, Amerigo Vespucci, darà il proprio nome America. E poi Dante si specchia anche in Francesca, perché riconosce in Francesca la sua passione, la sua passione amorosa e la sua passione letteraria. Francesca da Rimini in realtà era di Ravenna, siede la terra dove nata fui sulla marina, ove il po' discende per aver pace e coseguaci sui. Viene data in sposa al signore di Rimini, Gianciotto malattesta, per suggellare la pace tra le due casate e le due città. Ma finisce male, Gianciotto era sgraffiato, sciancato, ma aveva un fratello bellissimo, Paolo. Paolo e Francesca si innamorano e scoprono di amarsi leggendo un libro. Galeotto fu il libro chi lo scresse, il romanzo cavalleresco che racconta un altro amore impossibile, quello tra Ginevra, la moglie di Artù e l'Ancillotto, che d'Artù era il miglior amico. Paolo e Francesca sono soli, ancora non conoscono i sentimenti l'uno dell'altro, era ancora il tempo dei dubbiosi desiri, soli eravamo, santo alcun sospetto, ma riconoscono la loro storia in quella del libro. E quando leggono il passo in cui l'Ancillotto bacia Ginevra, Paolo bacia Francesca. La bocca mi basciò, tutto tremante. E poi lì Dante stende una cortina di pudore. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. Siamo nel secondo cerchio, tra i lussuriosi. Dante vede due anime avvinte anche nella morte e vorrebbe parlare con loro. E loro si avvicinano come colombe dal disio chiamate. È sempre Francesca che parla. Paolo soltanto lacrima. E Francesca comincia con un verso stupendo, bellissimo. Se fosse amico il re dell'universo, Dio, non è quasi mai chiamato per nome nell'inferno, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Sono versi famosissimi. Ogni tertina comincia con la parola amore. Amor che al cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancora mi offende. Amor che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer si forte che, come vedi, ancora non mi abbandona. Amor che a nulla amato amar perdona è un verso immortale, senza tempo, sembra scritto ieri e finito anche in serenata rap di Giovanotti o in ci vorrebbe un amico di Antonello Avenditti. Non è meno importante un altro verso. Caina attende chi ha vita ci spensa. L'assassino, Gianciotto Malatesta, il colpevole del più famoso femminicidio nella storia della letteratura, finirà nella Caina, dove sono puniti i traditori dei parenti. Caino appunto. E in fondo all'inferno, postorribile, non c'è il fuoco. Il fuoco dell'amore divino è un paradiso. In fondo all'inferno, secondo Dante, c'è il ghiaccio, simbolo dell'odio e della disperazione. Ed è lì che vanno a finire coloro che fanno del male alle donne. Perché, vedete, la violenza contro le donne non è un problema delle donne soltanto, è un problema di noi uomini. Siamo noi uomini che dobbiamo cambiare e fare cambiare i violenti. Coloro che ancora non accettano un no, un basta, un rifiuto, un abbandono. Coloro che si ritengono proprietari del corpo e dell'anima della donna e che non sono disposti a riconoscere la sacrosanta libertà della donna di uscire con chi vuole, di vestirsi come vuole e di amare chi vuole. Siamo noi uomini che dobbiamo cambiare e fare cambiare quelli che ancora la pensano così. Dante ha una concezione molto moderna della donna. In un tempo in cui si discuteva se la donna avesse o no l'anima e qualcuno diceva di no, Dante scrive che la specie umana supera tutto ciò che è sulla terra grazie alla donna. È la donna che salva l'uomo, è Beatrice che salva Dante. Anzi, quando Dante si smarisce nella selva oscura, una catena di donna si mette in movimento per salvarlo. La Madonna va da Santa Lucia, Dante era molto devoto a Santa Lucia, protettrice della vista, cui attribuiva la guarigione di una malattia agli occhi che aveva avuto da ragazzo. E Santa Lucia va da Beatrice che scende dal paradiso nell'inferno, poiché l'inferno non la tange, affida Dante a Virgilio e poi ritroverà Dante in cima alla montagna del paradiso terrestre, da dove Dante e Beatrice voleranno attraverso i cieli del paradiso sin davanti al volto di Dio. E c'è una bellissima preghiera alla fine del paradiso in cui San Bernardo prega alla Madonna di intercedere affinché Dante possa vedere il volto di Dio. Vergine madre, figlia del tuo figlio. Dante scrive che Maria ha innalzato tanto la specie umana che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Il creatore, Dio, è tornato nel mondo incarnandosi come un fiore nel grembo di una donna e quindi è stato creato da una sua creatura. Forse è la più bella preghiera mai scritta. Vedete, io sono felice adesso di lasciare tra pochissimi minuti il palco a una grande donna come Monica Guaritore. Voglio ancora dirvi questo, questa idea di Dante, della donna che salva il genere umano, è un'idea modernissima. Noi da chi siamo stati salvati durante la pandemia? Noi diciamo medici e infermieri e il maschile, ma non soltanto la maggioranza delle infermiere sono donne, ma anche la maggioranza dei giovani medici sono donne. E penso alle tante donne che hanno continuato a lavorare anche nei mesi più dure del lockdown qui a Roma, le cassiere dei supermercati, le donne in uniforme, le farmaciste, le conducenti dei mezzi pubblici, le librai, le edicolanti, le bariste, le croniste, le insegnanti che hanno fatto lezioni online, le mamme che hanno continuato a lavorare badando ai figli che non potevano andare a scuola, le nonne che hanno fatto dei sacrifici, che hanno corso dei rischi per stare accanto ai nipoti o che peggio ancora non hanno potuto vedere i nipoti. La donna è capace di cura e la cura non è una cosa che sminuisce, è una cosa che esalta. Del resto noi siamo stati creati dalla dea cura. Secondo gli antichi romani un giorno la dea cura prese il fango, lo plasmò, fece l'uomo e chiese a Giove di insufflargli l'anima. Poi nacque una discussione per stabilire a chi appartenesse l'uomo e la cura disse è mio, l'ho fatto io. Ma la terra disse no, l'hai fatto col fango e il fango mi appartiene. Ma Giove disse no, è mio, gli ho dato l'anima. E allora si arrivò a un compromesso. Dopo la morte il corpo tornerà alla terra, l'anima a Dio, ma finché vivrà l'uomo parterà una donna, parterà la dea cura. La donna donna la vita in tutti i modi in cui la vita può essere donata, concependo un figlio, dandolo alla luce, nutrendolo e prendendosene cura, cura che ovviamente va condivisa, papà e mamma. Ma vedete, la cura è anche una forma di potere. Oggi che abbiamo capito che la terra non è immortale, ce l'ha ricordata una giovane donna svedese, Greta, ora che abbiamo capito che la specie umana è fragile, l'abbiamo capito con la pandemia, Dante mette in scena la pandemia nel girone dei falsari, i falsari di moneta, di metallo, di parola e di persona. I falsari di persona sono quelli che rubano l'identità altrui. Dante mette in scena degli imitatori che facevano delle truffe. Gianni Schicchi era un imitatore talmente bravo che prese il posto di un fiorentino ricchissimo, Bozo Donati, che stava morendo, e doveva fare testamento. Gianni Schicchi entrò nel letto di Bozo Donati, imitò la voce, imitò il suo aspetto e dettò un testamento ovviamente falso a favore del suo complice che poi lo ricompensò regalandogli la più bella cavalla della scuderia. Gianni Schicchi era un po' un Maurizio Crozza del tempo e oggi metterebbe Dante tra i falsari di persona quelli che aprono magari un account con un nome falso per insultare gli altri. Bene, questi falsari sono puniti da una malattia infettiva che li prostra, li costringe a stare uno contro la schiena dell'altro, è una scena terribile. Del resto ai tempi di Dante le pandemie non erano dolorose sorprese come per noi, ma erano dolorose abitudini. La generazione successiva a quella di Dante sarà spattata via dalla peste nera, la generazione dopo ancora farà il miracolo del rinascimento. Ce l'abbiamo sempre fatta e ce la faremo anche questa volta. Diceva Borges, il grande letterato argentino che adorava Dante, che aveva imparato l'italiano leggendo la Divina Commedia sul tram che lo portava alla Biblioteca Nazionale di Buenos Aires, diceva Borges che la Divina Commedia è il più bel libro scritto dagli uomini ed è un libro scritto in italiano nella nostra lingua da un italiano, un nostro compatriota. E questo ci ricorda che essere italiani non è una sfortuna, come a volte pensiamo. Neanche a me piace l'Italia di oggi, la vorrei profondamente diversa, ma è l'unica Italia che abbiamo, non potremo mai averne un'altra, la possiamo, la dobbiamo rendere migliore un poco alla volta. Essere italiani non è una sfortuna, ma è un'opportunità ed è una responsabilità. Vuol dire essere all'altezza di un patrimonio unico al mondo di arte, di bellezza, di cultura e ha un senso particolare dirlo in un posto così bello e ringrazio coloro che mi hanno invitato e hanno reso possibile questa serata e tutti quanti voi. Essere italiani vuol dire essere all'altezza di questo patrimonio di bellezza, ma anche del patrimonio di valori morali che le nostre madri e i nostri padri ci hanno lasciato. Dante ci ricorda chi siamo noi italiani, quello che abbiamo fatto e quello che faremo per tornare a rivederle ai mestieri. Grazie. Applausi 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 Grazie a tutti